Nell'era in cui uomo e macchina hanno un rapporto sempre più attivo, gli assistenti vocali sono destinati a diventare i compagni fissi della vita di ognuno di noi. Secondo un'analisi di Gertner, leader mondiale nella ricerca nel campo dell'information technology, nel 2019 il 20% di tutte le interazioni uomo-smartphone avverrà attraverso una conversazione. Ecco perché i big del settore fanno a gara offrire servizi sempre più intelligenti. Apple schiera Siri, Samsung ha appena lanciato Bixby, Microsoft ha Cortana, ma tutti svolgono principalmente la stessa azione, conversano. Come l'uomo interagisce con i suoi simili attraverso il dialogo, così gli assistenti sono programmati per parlare in maniera sempre più simile a quella umana, tanto che alcuni scienziati sono pronti a scommettere che le intelligenze artificiali supereranno quelle umane nel corso dei prossimi tre decenni. Masi Oshison, fondatore e amministratore delegato del colosso nipponico SoftBank, sostiene che in questo lasso di tempo un singolo chip arriverà ad avere un quoziente di intelligenza pari a 10.000, un numero spropositato se si pensa che Einstein si fermava a 160. Già oggi si notano i grandi passi avanti di queste tecnologie. Siri sarà trasformata nei prossimi anni per diventare sempre più reale e umana, tanto da riuscire a dare consigli sulla vita privata e su problemi di salute ed emotivi. Bixby comprende non solo parole, ma anche testi e inquadrature e il passaggio da una modalità all'altra può avvenire in qualsiasi momento. Più l'utente usa il suo smartphone, più l'assistente conosce le sue abitudini ed è in grado di aiutarlo. Cortana, con il nuovo aggiornamento, sarà dotata di intelligenza visiva, potrà segnare sul calendario un evento preso da una foto, da una copertina o da uno screenshot in rete. Non legato a uno smartphone, ma a un dispositivo mobile da tenere in casa, c'è poi Alexa, l'assistente vocale ideata da Amazon. È capace di puntare la sveglia, riprodurre musica, leggere audiolibri, rispondere a domande sul meteo e acquistare prodotti online. Insomma, il futuro sembra appartenere all'intelligenza artificiale. Grazie al comando vocale, gli assistenti non solo ci facilitano la vita, ma ci tengono compagnia nella nostra quotidianità.